La rosa è il rostro, la violetta è blu, la macchina guarda, non muovetevi! Oh, devo farne un'altra! Quello con la giacca bianca si è mosso, devo farne un'altra! Ci saranno ben altri movimenti in questi giorni, scusi, generale, a ordini? Guardano pure, signori, basta tutti i pregi! Non sono venuto a vederla incidere il di dietro dei miei soldati, perché mi ce l'ha marcato visita? E non le dispiace, signore, è vietato parlare qui! E chi è? Ok, questo è Colomello Marlowe! Come sta? Si metta in nota, ci occuperemo immediatamente di lei! E quello viene con noi! Il mio dovere, dopo aver distrutto Newton, è di riportare alla base il maggior numero possibile di uomini! Andra! Non è necessario ammazzarla! Non è necessario ammazzarla! Al riparo, prego! Conosci gli ordini? John, non puoi farlo! Lasciami condurre la carica! Se la carica avrà successo, altro che governatore, finirò alla casa bianca! È più probabile che finiremo tutti! Non è necessario ammazzarla! Non è necessario ammazzarla! Eh... Non è una una nuova sprazione! Non è necessario ammazzarla!